Inaugurata la suggestiva passeggiata delle ceramiche di Castelli presso il Molo Sud di Giulianova. Realizzato da maestri artigiani, il muretto della passeggiata è un'opera ad alto valore artistico e culturale. Sono stati impegnati infatti circa 1600 mattonelle di ceramica, con inserti in quercia africana che riproducono la volta della chiesa di San Donato. Progetto promosso dall'Edde Porto in collaborazione con l'Associazione Ceramisti Castellani, che ha creato una serie di mattonelle d'autore. 18 le sedute presenti e rivestite di ceramica situate lungo gli oltre 400 metri di rialzo già esistente. Ci tengo a dirlo e soprattutto sottolineo anche l'unità delle nostre comunità, anche con quei territori all'interno della provincia di Teramo che sono stati oggetto anche di gravissimi eventi sia di tipo meteorologico che purtroppo anche terremoti e che hanno sofferto duramente. Si parla sempre di unione fra il mare e le zone interne e la montagna. Oggi tutti quanti insieme noi, la Camera di Commercio che ci ha supportato, il BIM, la provincia, abbiamo compiuto un'installazione che è sì un bellissimo arredo, ma è anche un omaggio a questi territori interni, a grandi storie, un grande passato che speriamo con questa anche promozione che facciamo sia anche un grande futuro. Sono 440 metri di seduta con 1578 mattonelle da 50 per 25, quindi sono anche grandi, interamente decorate a mano, da 15 maestri artigiani di castelli nelle proprie botteghe, quindi anche lì un grande esempio di collaborazione. Ci saranno altri progetti in futuro? Necessariamente, noi non ci occupiamo solo di arredi, chi frequenta il porto in questi giorni vede anche che stiamo cambiando centinaia e centinaia di me, un chilometro di catenari che sono le strutture che danno sicurezza agli ormeggi delle imbarcazioni da pesca e da riporto. Abbiamo sistemato 15 nuove bit, nuovi parabordi, stiamo sistemando i fanali rosso e verde di ingresso al porto, stiamo sistemando dei bagni lungo il porto per permettere, come dire, dare un servizio ulteriore, quindi diciamo che c'è molta attività.